All'inizio della campagna elettorale ho potuto contare su un sostegno professionale di Teresa Cardona e Roberto Fuso Nerini, in particolare per focalizzarmi sui punti di forza, punti di debolezza, le aree da migliorare del mio profilo. Ed è stato molto utile, in primo luogo perché quando si inizia un'attività come la campagna elettorale si ha poco tempo per focalizzarsi in modo strategico su quello che si può dire, su quello che si rischia, sulle opportunità che il proprio profilo presenta. Invece poter contare su del tempo dedicato con delle persone che ti fanno le domande giuste, che ti aiutano a pensare come valorizzarti, è stato di grande aiuto. E in secondo luogo, forse perché io sono una donna, faccio un pochino più fatica forse a vendermi. E quindi poterlo fare nel confronto con due professionisti, che ti liberano anche magari da certi elementi di ritrosia, di timidezza, è stato molto utile perché ha reso tutto quanto serio, di livello. Il rapporto poi che c'è con loro è un rapporto che ha molto facilitato la comunicazione, ha molto facilitato il ragionamento. E davvero io mi sono sentita appoggiata e mi è servito nel corso della campagna le cose che abbiamo scritto, le parole chiave, i temi individuati, sono diventati sempre di più temi strategici. E io da quel ragionamento che abbiamo fatto insieme, che poi abbiamo tenuto sempre aperto al Comitato, ho potuto veramente far crescere un ragionamento e un discorso in campagna elettorale che mi ha molto caratterizzato. Credo che appunto senza loro sostegno il risultato che poi abbiamo avuto non sarebbe stato raggiunto con la stessa facilità, con la stessa chiarezza e con la stessa chiarezza sugli intenti che avevo.